Come ti chiami, ragazzo? Naso, ma voi non capite. Noi due dovremmo parlare, ok? Così sarà tutto più chiaro, solo io e te. Lei ti ha detto dove voleva andare? In spiaggia. Dove in spiaggia? Ok Nas, ascoltami. Non parlare con anima viva, mai più. Se ti fanno una domanda, una qualsiasi, come stai, bella giornata, vero? Rispondi, non lo so. Parla col mio avvocato. Voltati a sinistra. Via la maglietta. Tu devi capire che quello che mi dici è molto importante. Cerca di ricordare. Posso aiutarti, ma tu devi aiutare me. A quanto pare l'ho uccisa, questo lo so. Già, a quanto pare. Ma non è così semplice, vero? Se sono fuori strada, dimmelo, avanti. Ti avevo detto di non parlare con nessuno. Che, che? Che, che? Che, che? Che, che? Grazie.